Ospite di Blog Sicilia oggi per inaugurare una serie di forum sui grandi temi siciliani è Totò Scalisi, direttore della Confcommercio Sicilia, con il quale vogliamo parlare di uno dei grandi temi che la Sicilia deve affrontare per tentare di tornare a svilupparsi, ovvero il turismo. Certamente se ne parla da anni, non è stato fatto moltissimo, anzi il turismo che c'è forse è quello che c'è di suo, naturale, non c'è un grande sviluppo. Uno dei temi degli ultimi giorni è stato il bando delle guide turistiche, Veronica Ferminino su questo ha una domanda. Sì certo, è stato pubblicato recentemente il bando per le nuove guide turistiche, ma quali turisti accompagneranno queste guide? È una reale prospettiva di sviluppo per il turismo nella nostra isola o semplicemente un'illusione? È una domanda che io le dovrei dire perché mi fa la domanda, perché questa domanda in realtà dovrebbe trovare una risposta nella programmazione che la Regione ha fatto. Io credo che questi giovani che sono chiamati a fare il concorso di guide si dovranno scontrare con una realtà che non è più la stessa di quando sono stati pensati questi fatti amministrativi che per inerzia si stanno realizzando in questi tempi, perché nel frattempo il turismo siciliano è completamente cambiato. Noi abbiamo ancora un sistema impostato su un turismo di massa, che ormai è invece un turismo di individuali che viaggiano tramite il web e con i voli low cost. Abbiamo un sistema per esempio di tariffe delle guide turistiche che se uno prende una guida per due persone, per 50 persone, per mezza giornata paga quasi lo stesso importo. Quindi diciamo che da questo punto di vista questi ragazzi sono destinati a farsi concorrenza fra di loro, abbassando ancora di più quello che è il ricavo medio che riescono a realizzare durante il corso dell'anno e a non offrire, perché il sistema non è strutturato per farlo, servizi agli individuali. Questo è il paradosso. Il paradosso è che qualcuno prima di bandire i nuovi posti per guide e poi anche quelli per accompagnatori avrebbe dovuto rimettere mano alla normativa e anche incontrarsi con le parti sociali, perché poi le guide turistiche per quanto lavoratori autonomi sono lavoratori, con cui rinegoziare anche le tariffe. Perché se i nostri clienti che arrivano in due o in quattro attraverso un volo low cost pagano 29 euro più le tasse aeroportuali che sono significative, comunque ormai è diventata. Poi trovano alberghi a 60 euro, poi devono pagare 180 euro per una guida, vi rendete conto che c'è qualcosa che non funziona, per cui si torna o alle app o al meccanismo delle antiche guide del touring club o comunque delle guide da libro o da ebook che tu ti puoi consultare e si ricorre poco all'utilizzo di personale specializzato. C'è comunque l'esigenza di un intervento da parte della regione per rimodulare tutta l'offerta in buona sostanza. Da questo punto di vista però un tentativo è stato fatto col piano strategico per il turismo o no? Attenzione, il turismo è fatto come tutte le cose, come tutte, da una serie di componenti. Prima ci vogliono le regole. Se uno scrive le regole, svilupparsi, crescere è difficile. Se non avessimo stabilito che col rosso uno al semaforo si ferma e col verde passa, probabilmente noi incidenti ne avremmo molti di più di quelli che abbiamo oggi. Nel turismo alcune regole semplici vanno stabilite. Va stabilito che cosa è il servizio che vogliamo dare, per quale tipologia e conseguentemente attrezzarci. Mi riferisco alle guide, mi riferisco agli accompagnatori, mi riferisco agli alberghi, mi riferisco ai resi, a tutto. Noi in questo momento abbiamo un sistema che ha delle normative, che sono state fatte nel 97 e poi nel 2007, che sono state aggiornate recentemente, con una legge per esempio sulle guide degli accompagnatori che è stata impugnata e in parte modificata, sulle quali non si è più rimesso mano. E quindi anche occuparsi del piano strategico significa che io sto mettendo un vestito nuovo, o una toppa nuova, in un vestito che invece è vecchio. Quindi questa toppa, per quanto possa essere strutturata bene, questo piano strategico, per quanto possa essere strutturato bene, siccome si rivolge a un sistema che ormai ha regole sorpassate e che non è più rispondente a quelle che sono le regole di mercato, finirà per avere risultati inapprezzabili o apprezzabili in maniera infinitesimale. Quindi io non darei grande valore al piano strategico se non è accompagnato da una riforma organica di tutto il sistema del turismo, che non vuol dire solo le guide degli accompagnatori, che vuol dire tutto. Perché se noi pensiamo al turismo e all'offerta del turismo, in realtà la gente cosa cerca? Dal punto di vista alberghiero cerca una camera pulita, un letto pulito e un bagno pulito. Punto. Poi se questa camera è vestita a 5 stelle, da bed and breakfast, da agriturismo, questo è altro, perché appartiene alla tipologia di cliente e al segmento di mercato. Se non rimettiamo in ordine queste cose, e a secondo il cliente e a secondo il segmento di mercato, poi ci saranno gli altri servizi, dalla ristorazione, alle guide, agli accompagnatori, ai taxi, a tutto il resto. Quindi il turismo va ripensato completamente prima di fare piani strategici. Quindi alla ragione cosa chiedete, cosa dite, cosa criticate? Uno, quando uno è in coma, cosa ci può chiedere a uno che è in coma? Poco e niente, perché chi dice saluto. C'era una cosa molto bella, che ci raccontava Sciascia, nello schermo a tre punte, che quando moriva, o se ne stava andando uno, gli amici andavano accanto e gli dicevano senti quando vai di là, saluta mia suocera, saluta a quelli, e un giorno Sciascia dice che uno si confusa, mentre stava morendo, gli dice fatemi un appunto che io me lo metto in tasca e poi saluto. Allora, ha un sistema turistico che sta morendo. Voi avete dato notizia di altri due alberghi che a Palermo sono chiusi e di un albergo come il San Paolo, che è un bene ormai di tutti i siciliani, e non solo dei siciliani, ma degli italiani, perché è acquisito al patrimonio dello Stato, che metterà il personale in cassa integrazione. Allora, questa è la realtà. La realtà è che noi ci troviamo di fronte a un sistema che è stato pensato per gli anni del turismo di massa e che ormai non è più attrezzato, ne ha avuto la possibilità di riconvertirsi per il turismo individuale, che è quello che stiamo vivendo adesso. In questo ragionamento, noi al governo della regione, la prima cosa che abbiamo chiesto era quella di sedersi con chi, avendo la responsabilità dei mutui da pagare, degli stipendi da pagare, degli F24 e quindi delle contributi imprese da pagare, delle tasse da pagare, supporta il carico maggiore. Non c'è dubbio che chi ha più dipendenti, e quindi anche più superfici, e anche più indebitamento, è quello che paga, tra virgolette, per primo, scelte che non sono state condivise. Questo è il dato. Allora, noi cosa abbiamo chiesto? Di sederci e discutere. Stiamo aspettando che qualcuno ci chiami e ci dia la possibilità di discutere. Sono passati due mesi, stiamo ancora aspettando. Ormai da tempo sentiamo dire che il turismo potrebbe essere in Sicilia volano di sviluppo, soprattutto per l'economia. Altre regioni sono riuscite a vivere di turismo, emblematico l'esempio della Puglia. Invece in Sicilia, come ricordava lei, molte cose non vanno, molti gli alberghi che chiudono. Ma allora, da dove bisogna intervenire nell'attesa che la normativa venga cambiata? Concretamente, in tempi brevi, cosa si può fare? Intanto noi siciliani dovremmo smettere di parlare, e dovremmo cominciare a fare, che è una di quelle cose di cui abbiamo un pochettino di difetto, di carenza, perché se ognuno di noi facesse quello che gli è consentito, dal suo ruolo, dalla sua responsabilità, lei ha fatto l'esempio della Puglia. La Puglia ha avuto l'intelligenza di fare diventare i quattro aeroporti un'unica autorità di gestione. Noi invece abbiamo quattro autorità di gestione, quattro consigli di amministrazione, quattro amministratori delegati, e quattro trattative con Ryanair, con questo, con quello. Quindi non ci vuole molto, ci vuole un poco di buona volontà, mettere a sistema le cose e farle funzionare meglio, perché non c'è dubbio che un'unica autorità di gestione del settore dei trasporti potrebbe trattare con le compagnie low cost in maniera completamente diversa. Nel piano strategico di cui voi avete accennato prima, si parla di una politica di co-marketing con le compagnie low cost, non abbiamo trovato traccia della direttiva comunitaria che dice come si realizzano queste azioni di co-marketing e quindi ci siamo permessi di inviare in assessorato copia della direttiva comunitaria che dice quali sono le linee guida per poter fare azioni di co-marketing e su questo anche qui sarebbe utile fare una riflessione. La seconda considerazione, sempre per cominciare dalle basi ed è anche questa una cosa che si può fare, perché non sfugge a nessuno di voi, la regione siciliana in questo momento tra contratti di servizi con le ferrovie dello Stato, che poi non si chiamano più ferrovie dello Stato ma si chiamano Trenitalia, perché non sono più dello Stato, nel senso che sono un S.p.a. Con le compagnie dei traghetti, dei collegamenti con le isole minori, con le autolinee, mediamente spende una cifra che si aggira intorno al miliardo all'anno o è possibile che tutti questi prendano soldi alla regione e che la regione non riesca a rispettare né una legge dello Stato, né una direttiva comunitaria su biglietto integrato? Che un povero disgraziato per sapere dove prendersi un autobus deve fare le interviste in mezzo alla strada? C'è stata una giornalista di un programma televisivo nazionale che ha dimostrato come, pur atterrando a Catania, alle 11 di mattina è arrivata a Donna Lucata alle 8 di sera e non è intervenuto nessuno di tutti questi assessori, direttori generali, perché tutti parliamo di turismo e ovviamente per parlare di turismo dobbiamo parlare di trasporti, ma nessuno ha fatto quello che nella sua responsabilità avrebbe potuto fare, attuare una legge e dare alla gente la possibilità di muoversi in Sicilia considerato che spendiamo un miliardo. Se volete continuo. Quindi parlare con la regione, e con chi parli? Con uno che se ne sta andando, con uno che non ha la capacità di rispondere e di fare proposte, di confrontarsi, non ha neanche la voglia di confrontarsi, quindi c'è poco da fare. Io credo che se continueremo a parlare di turismo, quelli che ci sono stati prima di noi, negli anni 70 e 80, hanno potuto scrivere, forse anche male, qualche pagina. Quelli che siamo venuti dopo, tra virgolette, non solo non abbiamo scritto nulla, ma non siamo stati neanche capaci di conservare quel patrimonio che avevamo. Adesso ci saranno delle occasioni che sono delle eccellenze, che il turismo siciliano dovrebbe cogliere, per esempio l'enogastronomia, quest'anno sarà l'anno dell'Expo. Allora, rispetto a questo, sarebbe stato, come dire, molto utile sostenere i prodotti a chilometro zero, sarebbe stato molto utile promuovere un rapporto tra l'enogastronomia e l'offerta turistica siciliana. Avete visto tracce di queste cose? Nessuna. Nei documenti sono scritti, ma erano scritti anche prima, ma non è successo nulla, sempre perché parlare è più facile che fare, quando poi sono cose che si possono fare con semplicità. Una regione turisticamente importante, non lo so, ognuno stabilisca, come il Lazio, per esempio, ha anche, come dire, normato l'offerta agroalimentare degli agriturismi. Noi continuiamo a dire, come devono essere i letti, se ci devesse lo sgabbello nel gabinetto, ma non siamo mai entrati nella differenza di offerta, perché noi il turismo in realtà non lo sappiamo fare. Noi abbiamo, tra virgolette, perso quello che era lo spirito iniziale di chi si voleva occupare di turismo con un approccio che avesse tutte le componenti, anche quella psicologica, perché la scelta di una destinazione non è solo economicamente conveniente, è anche per la pille che la destinazione dà. La cinematografia, qualcuno adesso sta tentando di rimettere mano anche a questa questione della pille sulla cinematografia, ma qualcuno dovrà ricordarsi che senza i film girati nelle isole olie non ci sarebbe stata la Sicilia che c'è oggi, ma stiamo parlando di 60 anni fa, non stiamo parlando di ieri. Quindi ci sono delle cose sulle quali sarebbe meglio che ognuno cominciasse a fare quello che deve fare, nel suo piccolo, nella sua grande responsabilità o piccola responsabilità, più che parlarne. L'Expo sarà un'altra di queste occasioni. Infatti per lo suo Expo vogliamo chiudere questa breve conversazione. Rischia di essere l'ennesima occasione mancata? Io mi auguro di no, perché ci faremmo veramente la figura degli ultimi che arrivano. Peraltro ho grande stima personale di chi se ne sta occupando. Parlo di Dario Caltabellotta, che ho apprezzato nella sua precedente esperienza prima del direttore dell'Istituto Vita e Vino, però tu non puoi pensare a prendere un cluster per l'euro mediterraneo, non puoi pensare a stare nel cluster dell'Italia e poi fare un avviso come quello che è uscito in questi giorni in cui cerchi sponsor a gratis. Perché questa mi pare come dire, alla fine mi sono accorto che mi mancano le cose importanti, chi è che me le può dare a gratis? Ma allora questi soldi come li abbiamo spesi? Quanti soldi avevamo per partecipare all'Expo? 10 milioni? 15? Non si sa. Non c'è una cifra che è possibile desumere, perché una parte toccava alle attività produttive, una parte all'agricoltura, adesso c'è coinvolgimento dei calci. A me pare una di quelle cose a cui noi parteciperemo, che nonostante la buona volontà di qualcuno, probabilmente avrà seri problemi organizzativi e non ci consentirà di raggiungere quel risultato che oggettivamente potevamo raccogliere da un'occasione come quella dell'Expo. A me pare anche banale che si invitino quelli che sono a Milano a venire in Sicilia, ma non glielo puoi dire il giorno che quello è a Milano, glielo dovresti fare sapere un anno prima. La campagna di comunicazione sul 2015 doveva cominciare nel 2014. Allora nel 2014 bisognava dire a tutto il mondo che chiunque avrebbe visitato l'Expo di Milano avrebbe trovato dei pacchetti, quali? Fatti da chi? Che portavano che cosa? Che segnalavano quali priorità siciliane, l'agroalimentare, i beni culturali, che cosa? Cioè chi lo doveva decidere questo? Io credo che lo dovevano decidere gli imprenditori con la Regione. Gli imprenditori avrebbero dovuto mettere la loro competenza e i loro soldi per fare soldi e la Regione avrebbe dovuto mettere opportunità di promozione. Avete traccia voi che fate i giornalisti di questo? Io no. Io mi occupo solo di categorie imprenditoriali, ma non si è mai parlato di questo. Probabilmente ci chiameranno a marzo, a aprile. Bene, grazie a Toto Scalisi per questa breve chiacchierata e per la visita qui da noi a Blog Sicilia e chiudiamo qui nella speranza che qualcosa cambi. Grazie. Ci vediamo prossimamente e poi misuriamo gli stati di avanzamento. Grazie a Toto Scalisi Grazie a Toto Scalisi Grazie a Toto Scalisi